Il caso della realizzazione del biolaboratorio alla Torraccio come nuova sede allargata e ampliata nelle funzioni dell'istituto zooprofilattico continua a rimbalzare fra manifestazione di dissenso e interrogazioni in consiglio comunale. Sabato in tal senso 300 persone si sono riunite in via Furiassi per ribadire il loro no davanti a questa realizzazione rispondendo all'appello delle telecamere del programma fuori dal coro di Rete4 e al contempo insistendo anche in una petizione che al momento sta riscuotendo più firme fuori regione che in città. Ieri invece ha riportato il caso in consiglio comunale la consigliera Lisetta Sperindei facendo da cassa di risonanza ad ulteriori richieste di chiarimenti. Avrebbero potuto partecipare anche altri enti senza fini di lucro con attività e finalità più affini all'attuale assetto urbanistico della zona come i settori commerciali, culturali, ricettivo, ricreativo, sportivo eccetera poi perché non è stata rispettata la logica del piano GA già in essere che ha una vocazione diversa rispetto all'arrivo di questo laboratorio e diciamo questo spallanzare degli animali con sale contumacciali. Fra le richieste della Sperindei anche una risposta a un presunto impatto negativo a livello turistico alle quali l'assessore Pozzi ha replicato difendendo la bontà della scelta e dell'investimento del comune. Urbanisticamente quell'area è idonea e una delle poche aree di proprietà del comune di Pesaro compatibile e coerente con la realizzazione che sarà in essere. Che cosa voglio dire? Voglio dire che da punto di vista urbanistico quell'area è una delle poche conformi che non richiede una variante, tant'è che è stato uno dei motivi per cui è stata proposta e si è lavorato su quell'area. Sulla terza si chiede se è previsto sul tema delle ripercussioni da un punto di vista turistico, no, non sono state valutate delle possibili ripercussioni da un punto di vista turistico in merito alla realizzazione di un biolaboratorio come non è stato fatto nelle decine di città italiane che hanno laboratori di sicurezza BLS3, come nelle città che anzi hanno un BLS4 e ne fanno motivo di vanto, perché non è un laboratorio da cui fessure escono patogeni, è un laboratorio che nasce, e questo riprendo le parole del direttore nasce per tutelare la salute dell'animale e dell'uomo. Questo è l'obiettivo con cui nasce, non so se lei è vegetariana piuttosto che carnivora, se una persona compra la carne da mangiare spera che quella carne sia controllata, che non abbia virus, che non ci siano situazioni che in qualche modo possano passare dall'animale all'uomo. L'obiettivo con cui nasce questo laboratorio che in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo diventa motivo di orgoglio di soddisfazione per una città sulla quale vengono realizzati degli investimenti per la tutela della salute, qua è diventato motivo di preoccupazione da parte di qualcuno, strumentalizzato da parte di altri, non penso che lei sia in cattiva fede, però cerco in ogni modo di farle presente che questa è la situazione.